Grazie mille, non mi dilungo ulteriormente sulla presentazione, per chi volesse eventualmente avere maggiori informazioni su Avilug o Wikimedia Italia può trovare tutto quello che cerca sul sito www.avilug.it e www.wikimedia.it Passando a quello che è il talk di questa sera, volevo un attimo ripercorrere quello che è successo in questi mesi, ovvero con la chiusura delle varie attività commerciali, fin da subito c'era la necessità di capire cosa rimaneva aperto, quindi quali supermercati, che orari di apertura, se erano attivi i servizi di consegna e quant'altro. Subito si è diffusa la notizia su vari gruppi Facebook, quindi classici se e di se, piuttosto che sui gruppi di commercianti, eccetera. E sono nati un po' come i funghi vari siti che riportavano queste informazioni. Due su tutti, io resto a casa appunto delivery, ne sono sorti altri anche con indirizzi diversi, in cui sostanzialmente c'era una situazione come questa, in cui c'era una mappa, la descrizione dell'attività e poi tramite una scheda era assegnato il livello di apertura, il numero di telefono da chiamare, eccetera. Piuttosto che un altro è quel servizio domiciliomap.it, fatta da Noulab, una software house sarda, in cui erano comparsi i dati di vari comuni. Qui Noulab aveva contattato la lista di comuni che potete vedere, i comuni hanno dato il proprio senso e hanno pubblicato questi dati. Per esempio, se guardiamo in strana, abbiamo anche qui i vari punti, la mappa in questo caso ha uno sfondo OpenStreetMap e cliccando sul punto di interesse si avevano bene o male i dati. Qual è il problema di questa cosa, però? Che ogni sito aveva un proprio database. Quindi, se un cittadino voleva capire che attività erano aperte all'interno del proprio comune, doveva consultare la lista del comune, consultare due o tre siti, eccetera, e farsi un'idea. Piuttosto che se il singolo commerciante attivava o disattivava il servizio di consegna, doveva fare il giro di tutti quanti i vari siti, quindi mandare il comune, mandare questo. Ci sono state anche attività che a un certo punto non reggevano più il carico e quindi hanno dovuto rifare tutto il giro per avvisare, aspettando chiaramente il tempo necessario. La comunità OpenStreetMap ha quindi si è chiesto come poteva dare una mano in questo caso. E l'idea che è venuta è quella di riutilizzare un servizio che era stato lanciato qualche anno prima, che è il sito su .openstreetmap.it. Il sito è molto semplice. Come prima cosa viene chiesto di indicare un indirizzo dove si trova l'attività, quindi una volta localizzato il negozio, c'è una scheda da compilare con il nome, il numero di telefono e avanti così, e una volta finito viene inserita una nota su OpenStreetMap e dei mappatori volontari andranno ad inserire questi dati. Volevo un attimo mostrarvi in questo talk, molto rapidamente, ho comprato un volantino in questi giorni di un'attività del mio paese. Quindi faccio la parte un po' del negoziante che vuole inserire questo dato, sul sito metto l'indirizzo, e lo cerco, dimenticavo, via inserita completa, ok, in questo caso non ho trovato, OpenStreetMap non ha trovato il numero civico, ok, quindi devo prendere il mio segnalino e posizionarlo esattamente dove è il negozio. Se invece nella propria città fosse presente anche il numero civico, la cosa viene fatta in automatico. Fatto questo, si va su Dettagli e si comincia a inserire le varie cose. Quindi nella FastiSpecie è un ristorante fast food che fa pizza, pizza, cucina greca e panini, panini caldi. Ok. l'indirizzo è quello che ho messo, il numero è il numero 28, non c'è un sito di riferimento, gli orari sono dal lunedì alla domenica dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24. posso segnalare se è accessibile, è completamente accessibile a una persona in carrozzina e avanti così, da quello che ho visto è completamente accessibile, se c'è un servizio di consegna e gli orari, chiaramente se gli orari variano, se durante l'emergenza Covid è stato attivato il servizio di consegna e anche qui gli orari, se è possibile fare di asporto e se durante l'emergenza Covid era possibile fare l'asporto. Una volta compilato questi dati, la nota viene inserita. Scusa Daffo, chiedo all'utente di IP di mettere il mute per cortesia, altrimenti entra un rumore. Grazie. Ok. E fin qui il ruolo del negoziante è completo, eventualmente può andare a vedere la nota per un attimo revisionare quelli che sono i dati che sono stati inseriti. Cosa fanno i mappatori volontari? Beh, c'è un sito Notes Review che permette di vedere tutte le note aperte su OpenStreetMap. Nella fattispecie è stata fatta una selezione in modo da estrarre tutte le note che hanno che cominciano che tengono il dato su .openStreetMap.it dal primo di gennaio del 2000 in modo da escludere quelle vecchie e andando a vedere ecco qui. Qui ho la nota che ho appena inserito. In automatico ci sono alcuni tag alcuni dati che sono già stati tradotti altri devono essere valutati per il telefono per esempio io non so se è un telefono oppure un cellulare questo deve farlo la persona piuttosto che gli orari di apertura dipende anche lì come la persona ha scritto in OpenStreetMap c'è tutta quanta un modo di codificare l'ora i giorni sono in inglese e avanti così. Chiaramente il mappatore va dentro OpenStreetMap deve accedere con il nome utente e la password registrati in precedenza quindi nel mio caso l'utente esafo il nome utente ovviamente serve per capire chi fa cosa per portare per farlo contattare e nei casi estremi in cui qualcuno fa danno per bloccarlo ok qui ecco vedete qualcuno ha intravisto il punto già inserito è una prova che avevo fatto io ieri sera quindi arriverò fino a un certo punto non inserirò poi il dato anche perché inserirai un qualcosa di doppio ok ok intanto che il dato viene caricato passo un attimo alla fase successiva poi riprenderò un attimo questo punto una volta inserito chiaramente deve passare un po' di tempo per far pescare al sito che andrò a presentare l'inforzione ok dovremmo quasi esserci ok sono in modifica l'interfaccia è andata è cambiata d'accordo quindi ho in risalto gli edifici e i punti di interesse quello che ho fatto io ieri sera è stato prendere il contenuto della nota e andarlo a inserire qua sotto ok queste sono le varie informazioni recupero alcune le ho recuperate dalla nota stessa e sono queste quindi il nome la strada il numero civico città eccetera eccetera in più avevo uno scontrino in tasca sono andato a compilare il resto quindi ho messo l'operatore la partita IVA anzi andiamo a collegere questo ok se era possibile accedere in macchina per prelevare la merce in questo caso chiaramente non è fattibile ma pensiamo a un McDonald's o altri ristoranti simili in cui c'è questo servizio ok sono andato ad aggiungere la cucina e il tipo di cucina perché non era presente e avanti così una volta finito mi viene segnalato che ho una modifica fatta salvo metto un commento come da buona prassi di mappatura in modo da avvisare chi va a revisionare il dato sul cosa ho fatto segno anche la fonte in questo caso è conoscenza locale potrebbe essere GPS se vado a segnare il punto immagini satellitari se guardo se mappo un edificio tramite la foto satellitare e via così carico e il dato è già disponibile è già scaricabile vi parlavo di un servizio aggiuntivo questo è stato fatto dalla comunità francese il sito originale si chiama Sarax du Ver traduttivo italiano Restiamo Aperti sostanzialmente il sito ci permette di vedere quali sono le nostre quali sono le attività aperte durante il covid o quali attività sono già mappate in questo caso per esempio c'è la biblioteca da qui io vedo i dati già inseriti se eventualmente ci fosse qualcosa da aggiungere posso modificarli il 90-95% dei dati vengono inseriti direttamente in OpenStreetMap tranne questa interfaccia quelli invece dove c'è bisogno di qualche informazione esentiva per esempio il contact phone o contact mobile quindi se si tratta di un numero fisso o di un telefonino in quei casi è prevista l'inserimento di una nota e poi una persona andrà a controllare se andiamo a vedere questi sono i dati per esempio che ho messo dentro ieri sera ok probabilmente manca qualche informazione o non ha pescato correttamente qualche informazione tant'è che ah no ok è stato aggiornato pochi minuti fa per quello probabilmente non mi fa modificare se no anche qui posso andare a modificare e dire che è aperto eccetera eccetera uno strumento simile può essere utile a un comune può essere messo anche sul sito comunale al posto di una lista in questo modo le persone o gli esercenti possono andare a modificare il dato molto velocemente chiaramente essendo il database condiviso ci può essere anche una software house che pensa a un sito diverso che va a pescare da di lì e mostra il dato in modo differente capite benissimo che si eliminano tutte le copie dei database che sono sparsi io qui ho finito ho presentato un po' quelli che sono i vari servizi se qualcuno ha domande sono disponibili ok allora grazie Zaffo hai risparmiato quattro minuti ma ce li teniamo per eventuali domande anche le persone che possono fare come al solito in chat oppure il nostro gruppo Tegnamo oppure togliere i mute e intervenire direttamente nella videoconferenza allora l'opoc ringrazia dice grazie allora se se non ci sono domande beh allora te ne faccio una io si parla molto si parla molto adesso in questi di questi tempi di dati ovviamente ovviamente OpenStreetMap è un progetto che ha lavorato da sempre con i dati quindi rispetto a questo voi vi sentite in qualche modo avvantaggiati vi sentite avanti oppure l'utilizzo dei dati sta prendendo una direzione diversa rispetto a quella rispetto a quella dove avete sempre lavorato insomma beh no ti direi ci sentiamo preparati su questa cosa anche perché tanti vedono OpenStreetMap come l'ennesimo caso di mappa ok mentre in realtà c'è la possibilità di estrarre questi dati personalmente ho avuto dei contatti anche con degli studenti dello Uav e dicendo a loro che questi dati possono essere riutilizzati per progetti anche universitari ho visto parecchi occhi brillare perché tanti andando anche un po' contro quelle che sono le leggi sul diritto d'autore ricalcavano dei dati da altre mappe su cui la cosa non può essere fatta piuttosto che queste OpenStreetMap viene usato anche dalla protezione civile ok una persona che era in contatto con la protezione civile ha detto che non è stato presente non ha visto con i suoi occhi ma ha avuto la notizia da una forte sicura nella famosa Situation Room che ogni tanto si vede quando c'è qualche terremoto eccetera sono presenti tre schermi una è la foto satellitare una è la mappa di Google e una è la mappa di OpenStreetMap mappa di Google perché comunque è molto accurata mappa di OpenStreetMap perché può essere modificata con rapidità adesso stiamo lavorando anche con con l'integrazione con altri altre strutture di dati penso a Wikidata stiamo cercando proprio di creare un collegamento tramite query Sparkle o tramite estrazione di dati in modo da presentare che ne so degli articoli un punto di interesse che può essere il monumento l'articolo la pagina su Wikipedia associata piuttosto che se il monumento è stato liberato o meno per essere fotografato liberamente per liberato intendo non sotto il vincolo della famosa legge urbana tutti allora Wikimedia Italia sta facendo un lavoro grosso che è quello di inserire tutti i dati in Wikidata come OpenStreetMap chiedo scusa me l'ho messo un timer di sicurezza come OpenStreetMap stiamo cercando di prendere questi dati in modo da metterli su una mappa GP che sta parlando però non riesco a sentirlo GP dovresti togliere il mute dal microfono così ti sentiamo esatto allora buonasera buonasera sto seguendo con molto interesse vorrei sapere qual è la relazione che c'è tra OpenStreetMap e OSMAND beh OSMAND è un'applicazione che utilizza i dati di OpenStreetMap adesso non mi ricordo chi sviluppa OSMAND però i dati sono in comune quindi OSMAND riceve i dati scarica i dati da OpenStreetMap fa un render quindi li mostra graficamente e permette anche l'inserimento dei dati chiaramente mentre su OpenStreetMap posso vedere i dati in tempo quasi reale perché comunque tra l'inserimento dei dati e la renderizzazione quindi la visualizzazione passa da un'ora a tre ore dipende un po' dal carico dei server dall'altra parte invece il rilascio dei dati avviene mensilmente oppure pagando un abbonamento viene rilasciato ogni ora ok non so adesso non mi ricordo dovrei andare a controllare chi è lo sviluppatore questo è il legame seconda domanda nella zona di Milano quali sono i riferimenti per poter collaborare con OpenStreetMap beh nella zona di Milano c'è il gruppo Polimappers che fa riferimento al Politecnico Polimappers Polimappers sì ed è un un gruppo interno un gruppo di studenti interno al Politecnico o se no c'è anche il coordinatore regionale di Wikimedia Italia che è Lorenzo Stucchi non so se è di Milano o comunque abita comunque abita in Lombardia se eventualmente l'email la trova sul sito di Wikimedia.it nel menu trova chi siamo e la lista di tutti i coordinatori perfetto grazie mille dell'interessantissima dell'interessantissimo talk aggiungo una cosa adesso non so se siano aperti o meno Wikimedia Italia comunque ha sede a Milano nella zona di Porta Genova so che c'è ecco non so se la sede è visitabile perché non so come sia la situazione a Milano comunque sono raggiungibili tutti quanti tramite l'email o tramite la sezione contatti del sito ecco per gli altri delle altre regioni sempre sul sito trovate i vari coordinatori principalmente sono quattro uno che fa da coordinatore generale uno per OpenStreetMap vediamo un attimo uno per le istituzioni culturali e uno per le scuole e università ok questa è la lista andiamo eccolo qua sì per la Lombardia c'è Marta Pigazzini che è quella generale ed è di Como mentre Lorenzo Stucchi è quello specifico per OpenStreetMap Zafo ti faccio due domande al volo una c'è in chat abbiamo due minuti uno è l'OPOC che chiede quante attività sono state inserite e l'altra che te la faccio in sequenza siccome hai accennato il fatto che una software house potrebbe prendere i dati visualizzarli e comunque costruire anche un'impresa attorno a questo quindi delle attività economiche che nascono dalla ricchezza di questi dati se hai dei riferimenti di aziende che già fanno questo oppure che stanno pensando di implementare dei servizi sulla base di dati di OpenStreetMap allora il numero esatto di attività non le ho so che c'è un utente che è il numero utente è Cascafico che ha fatto tutta una serie di mappe con UMAP sempre un progetto francese che utilizza OpenStreetMap come sfondo e poi ci si può mettere sopra o dati liberi o dati estratti da OpenStreetMap ok per fare anche magari le classiche immagini le classiche mappe per dei convegni eccetera tipo non so dove sono i ristoranti dove sono gli alberghi eccetera eccetera allora io adesso stavo un attimo aprendo la scheda per condividere l'indirizzo in chat se qualcuno potrà vedere so che qui in Veneto molto è stato inserito a Padova e a Mestre zona Mestre lì addirittura c'è stata una scuola che un professore di una scuola che ha fatto il lavoro di mappatura prima in presenza e dopo da remoto assieme agli studenti e business ce ne si può fare i dati sono liberamente disponibili ok se si utilizza bisogna fare un'attribuzione c'è tutta una pagina sul wiki di OpenStreetMap come fare un esempio che mi viene è una ditta una ditta inglese splash map allora vediamo un attimo splash maps eccolo qua sì scusa scusa Daffo ti abbiamo perso per un secondo puoi ripetere le ultime cose ah ok allora una delle ditte è splash maps vedete qui il sito questa ditta prende le mappe di OpenStreetMap e le stampa su tessuto quindi fa dei dei collarini da mettere al collo quando si va a fare una corsa delle bandane addirittura ci hanno fatto delle tende per doccia e la novità che potete vedere avete visto prima sono le mascherine i dati chiaramente questo lo può fare legalmente può scaricare le mappe e stamparle poi c'è qualcuno che fa dei render particolari che ne so se c'è bisogno di avere una visualizzazione storica posso farla posso farla io avendo le capacità può farla in una software house facendosi soldi quello è ok questo fa parte delle licenze libere comunque questo è bello esattamente ok allora siamo in chiusura perché sono le 22 02 vediamo se sono altri messaggi che arrivano in chat allora Gabriele dice c'è un sito che vendeva stampe di mappe tematiche mi ricordo Rolls lì giù Roma sì quindi insomma di riferimenti diciamo che ce ne sono come addirittura so che c'erano delle persone che lavoravano in un fab lab adesso non mi ricordo se è di Milano o di dove che stampavano queste mappe anche loro ok allora chiaramente si può anche usarlo per fare analisi del territorio nulla vieta ok allora grazie mille a Matteo Zaffonato Zaffo Tanta perché lui è passato questa maggiore è stato un bellissimo talk e alla prossima comunque li aspettiamo grazie mille Seba grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare grazie mille grazie mille